Italia, Zoff. Roma retegui l'uomo giusto per questa nazionale. Non si può dire di aver trovato l'uomo giusto dopo una partita e mezzo. Quando c'è Immobile che segna 50 gol a stagione da tre anni, bisogna metterci d'accordo. Sicuramente non ce ne sono tanti, è un dato di fatto. Però non che arriva uno e può scalzare uno che fa 50 gol all'anno. È un'esagerazione. Dino Zoff fa le idee chiare su chi dovrà guidare l'attacco dell'Italia. A radio anche io Sport, su Rai Radio 1, la leggenda del calcio azzurro ha continuato, ci sono pochi giocatori italiani. Ai miei tempi, in Friuli eravamo 10-12 in Serie A e 2-3 in nazionale maggiore. Poi per 30 anni il Friuli non ha avuto giocatori in Serie A ci sono proprio meno giovani italiani che giocano. Non ce ne sono tanto bravi anche all'estero. Mancini, avendo poche possibilità, ne convoca tanti. Ma ricordo che nel 1974 è successo all'incirca la stessa cosa. Con tante prove e tanti giocatori nuovi, anche se il panorama era diverso, molto più ampio. Verso i prossimi obiettivi ci sta puntare sulle seconde generazioni, anche perché se i giocatori non ci sono non è che smettiamo di giocare a calcio. Africa e Sud America producono sempre un sacco di giocatori, hanno la possibilità di fare quello che facevamo noi negli anni 60, giocare ore e ore in grandi spazi. Adesso invece i giovani giocano due volte a settimana per un'ora ed è già tanto. Dobbiamo andare ai prossimi europei mondiali, ma dobbiamo fare meno le vittime sul nostro campionato. ha concluso il campione del mondo di Spagna 82, virgola.